Questo è molto difficile, io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici, certo era una persona che in termini romanesti lo direi se l'andava cercando. È il pensiero di Giulio Andreotti, intervistato nel 2010 sull'omicidio di Giorgio Ambrosoli, così oggi quando il Consiglio regionale della Lombardia ha ricordato il senatore a vita, scomparso ieri a 94 anni, Umberto Ambrosoli, figlio dell'eroe borghese, commissario fallimentare della banca privata italiana di Michele Sindona, ha preferito non partecipare al ricordo. Uno dei motivi di questa scelta risiede anche nella dichiarazione del sette volte presidente del Consiglio dei Ministri che vi abbiamo mostrato in apertura. È una storia personale che si mischia, però torno a dire, non è il caso di far polemiche. È giusto che le istituzioni ricordino gli uomini delle istituzioni, ma come ho già detto è anche giusto che chi compone le istituzioni faccia i conti con la propria coscienza. Da quanto emerso da diversi procedenti giudiziari, Andreotti avrebbe avuto rapporti stretti con Michele Sindona. A inizio seduta il presidente dell'Aula, Raffaele Cattaneo, ha letto un lungo ricordo dell'attività politica di Andreotti. Io rispetto le ragioni personali di Ambrosoli e di fronte a vicende come quella che ha vissuto lui ci si deve fermare. Ciò non di meno ho detto che le istituzioni hanno delle regole e richiedono un rispetto che va anche al di là delle questioni specificamente personali. Per questo mi ha sorpreso che Umberto Ambrosoli sia uscito dall'Aula. La nomina di Giuseppe Sala, commissario unico di Expo 2015, sancita a Milano dal presidente del Consiglio Enrico Letta, ha chiarito che per tentare di serrare i tempi e accorciare i ritardi, l'unica strada era quella di attribuire a una sola persona superpoteri che dovrebbero consentire lavori più rapidi e minori rischi di contenziosi e ricorsi. Sala, un uomo solo al comando. E due illustri che lasciano Giuliano Pisapia, commissario straordinario, e Roberto Formigoni, commissario generale. Per quanto riguarda Pisapia tutto era stato concordato col neo governatore Roberto Maroni, ma certamente per Formigoni è questo un boccone molto amaro. Al di là dell'elezione al Senato, certamente l'ex presidente della regione teneva molto a quell'incarico che dava responsabilità, prestigio e potere in vista dell'esposizione universale. Formigoni aveva appena traslocato da Palazzo Lombardia al trentesimo piano del Pirellone, dove hanno sede gli uffici di commissario dell'Expo. E adesso deve lasciare anche questi locali con eccezionale vista su Milano. Dopo quasi 18 anni al vertice Lombardo è un po' il tramonto di un personaggio che nel bene e nel male, tra la migliore sanità d'Italia e le varie inchieste della magistratura, su tangenti, corruzione e via dicendo, ha contrassegnato un'epoca. Formigoni voleva a tutti i costi tenere la poltrona di Expo, ma non è più epoca. La sua stella appare in declino e anche all'interno del partito gli avversari non si contano. Certamente lo scranno al Senato gli sta stretto, è uno dei 315 senatori, proprio lui che era abituato ai flash, alle telecamere e ad essere sempre in prima fila, magari anche esibendo la sua giacca arancione. D'altro canto anche Roberto Maroni vuole imporre una rottura con il passato e creare una discontinuità che poi vedremo se sarà tale fino in fondo. Auguri e figli maschi, disse rabbiosamente l'ex governatore quando venne decisa la nomina del commissario unico. Tuttavia in politica lo sappiamo, la parola mai non esiste e dunque chissà. Un presidio sotto il pirellone per chiedere alla regione Lombardia di fare presto. E questa è la richiesta della CGL di Sunia che questa mattina hanno manifestato assieme ad una quarantina di persone sfrattate con problemi economici legati agli affitti. In Lombardia gli sfratti e l'amorosità sono in aumento, un'emergenza sociale che ha toccato oltre 50.000 cittadini. E non arrivano buone notizie neanche sul fronte contributi. Il fondo sociale affitto infatti verrà erogato solo a coloro che denunceranno un reddito inferiore ai 4.500 euro annui. A questa fotografia generale sul problema delle case si aggiunge anche quello legato alle gestioni delle 13 aler, che secondo la proposta del presidente Roberto Maroni si trasformerà in alca con 150.000 alloggi in dotazione su tutto il territorio. L'emergenza abitativa riguarda la Lombardia. Solo a Milano sono 22.000 le famiglie che chiedono una casa popolare a fronte di una disponibilità odierna di 3.000 alloggi. A rappresentare le richieste dei cittadini è Stefano Chiappelli, segretario generale Sunia, che chiede tra l'altro di cambiare la legge 27 sul calcolo degli affitti pubblici e di far sì che le 13 aler vengano trasformate in aziende di servizio riducendola a 5 unità e semplificando i costi a carico della collettività in modo da liberare risorse per i nuovi investimenti. Non bisogna soltanto affrontare il problema della riforma delle aler giusta e importante, ma bisogna affrontare i problemi veri, i problemi che oggi vivono l'inquennio delle case popolari. E ripeto, la riqualificazione, la manutenzione, gli alloggi sfitti, le occupazioni abusive sono elementi dove la gente chiede risposte immediate da parte delle istituzioni e della politica. Alle richieste formulate dai sindacati e dai cittadini è stato inviato un documento ai capigruppo del Consiglio regionale per chiedere entro la prossima settimana un incontro con le parti sociali per discutere dell'emergenza a casa. Un anno fa la prima incursione, la Torre Galfa, scheletro in ferro e vetro abbandonato da decenni, ritornava protagonista con l'occupazione di un nuovo collettivo, Macao, movimento in rappresentanza di lavoratori di arte e spettacolo, vicino all'ambiente dei centri sociali, che denunciava i problemi del comparto oltre che i tanti stabili vuoti e abbandonati della città. Dopo lo sgombero il collettivo si spostò a Palazzo Citterio e dopo soli tre giorni il nuovo trasloco all'ex macello attualmente occupato è sede di varie iniziative. Sono circa 250 le persone che partecipano al progetto con cosiddette residenze teatrali dove chi fa corsi viene ospitato, sale per l'arte e anche una sala cinematografica in arrivo. L'idea è quella di creare un network fra tutte le realtà milanesi, cittadine, che si stanno muovendo rispetto alla distribuzione e alla cinematografia indipendente. Quindi a breve noi avremo un incontro di rete cittadino per ragionare insieme su cosa si può fare per rivendicare con forza a Milano un'inversione di tendenza netta rispetto a quella che è la tendenza degli ultimi anni, ovvero la chiusura inesorabile di molti spazi dedicati alla cinematografia e alla cultura in generale. Su questa rete, quindi non solo milanese, noi stiamo lavorando con altre realtà che sono ad esempio Sessine Pa, Fiat Lux e altre realtà di Bologna e di altre città per creare insieme una rete di distribuzione di film che sono invisibili attualmente. Dal comune in un anno sono arrivate diverse voci di vicinanza, ma nessuna attestazione che legittimi l'esistenza di Macao che ancora oggi poggia le fondamenta sull'abusivismo dall'occupazione dei locali all'uso della corrente elettrica. Domenica l'ultimo graffio alla città con il blitz al cinema Manzoni, altro spazio vuoto da anni ritenuto patrimonio culturale alla mercè dell'abbandono e del degrado. L'accordo di Massima C'è, la speranza alla forma di un documento economico che rappresenta un piccolo passo avanti nelle trattative tra proprietà e lavoratori. Proposte concrete su cui però pesa il massimo riservo per non turbare le trattative, dice la Regione, che domani dal pomeriggio saranno discusse in Regione Lombardia la presenza delle rappresentanze sindacali e della proprietà, oltre che dell'assessore regionale al lavoro Valentina Aprea. L'obiettivo è il raggiungimento di un accordo complessivo che risolva il nodo dei 244 lavoratori a rischio, oltre che reintegrare i 64 licenziati. Loro, dopo aver ricevuto la raccomandata che chiudeva il rapporto di lavoro, non si sono arresi, partecipano ai presidi e alle manifestazioni. Intanto non sono state recapitate altre lettere dopo la riapertura delle trattative, visto che la mediazione prevedeva il congelamento dell'invio delle raccomandate di licenziamento. Le trattative al San Raffaele vedono un momento di distensione dopo i picchi di tensione di aprile, quando l'occupazione dell'accettazione era stata fermata con l'intervento delle forze dell'ordine. Ora la pace armata punta tutto sull'incontro di domani e dopodomani, con la Regione a far da arbitro e l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro. Un impegno che preservi i posti di lavoro, ma che allo stesso tempo mantenga alto il livello di eccellenza della struttura sanitaria. E' sempre più allarme per il bilancio di Palazzo Marino. Anche se il Comune utilizzasse la leva fiscale arrivando ai limiti consentiti dalla legge, questo non sarebbe sufficiente a mettere in sicurezza i conti e quindi a chiudere il bilancio di previsione, documento sul quale si basa la politica e le scelte per il futuro della città. Lo ha spiegato l'assessore al bilancio, Francesca Balzani, e i consiglieri del Partito Democratico in un incontro informale nel corso di una settimana decisiva per decidere i tagli definitivi per colmare il buco di 437 milioni di euro. Circa 137 milioni sono già stati reperiti, ma all'appello ne mancano altri 300. Oggi l'addizionale IRPEF viene applicata ai redditi sopra i 33.500 euro all'anno, con una progressione che va dallo 0,3 allo 0,7%. Tra le ipotesi c'è quella di creare un'aliquota unica dello 0,8% per tutti i redditi sopra i 15.000 euro, cosa che porterebbe nelle casse 110 milioni di euro in più. Una cifra niente male, ma non risolutiva. Altri 110 milioni arriverebbero da LIMU sulla prima casa, provvedimento che però il governo ha sospeso almeno nella rata di giugno. Il sindaco Pisapia ha definito un grande pasticcio. Milano è stato, come tutti i comuni, siamo stati i gabellieri dello Stato che ci ha fatto pagare LIMU e i nostri cittadini, LIMU prima casa, e poi si è ripreso i soldi. A noi praticamente ci portano via 230 milioni di euro che non è detto che ci restituiscano. Bisogna proprio cambiare regime, bisogna cambiare modalità di tassazione con maggiore equità che purtroppo oggi non c'è. Il sindaco di Milano nel corso di un vertice notturno con i suoi assessori ha ribadito che tra le necessità inderogabili c'è quella di consentire che investimenti del comune in Expo 2015 non vengano conteggiati all'interno del patto di stabilità. Insomma è più che mai fondamentale una deroga al patto per tutte le spese destinate agli investimenti che creano nuovi posti di lavoro. Per il 2013 il patto di stabilità chiede un risparmio di circa 500 milioni di euro di cui 370 sono rappresentati da Expo. Senza deroga da parte del governo il comune dovrebbe spendere la stessa cifra senza sforare i parametri e quindi risparmiando tagliando ulteriormente i servizi ai cittadini. La cosa appare quanto mai impossibile. Si chiamano prodotti belli e ben fatti e rappresentano l'eccellenza del made in Italy e della sua produzione nei diversi settori dall'abbigliamento all'alimentare fino all'arredo e al design. Le importazioni di questi beni appartenenti alla fascia medio alta dai paesi emergenti cresceranno fino a 169 miliardi di euro nel 2018, 54 miliardi in più rispetto al 2012 con un aumento del 47%. Oltre un terzo della domanda aggiuntiva arriverà da Russia, Cina ed Emirati Arabi Uniti. A dirlo è la quarta edizione della ricerca Esportare la dolce vita realizzata da Confindustria e Prometeia a dare un contributo alla ricerca anche il centro studi di Federlegno Arredo. I produttori cinesi sono quelli che copiano di più i prodotti italiani quindi ci sarà una ragione per cui perché noi abbiamo un grande design, una grande qualità di prodotto e quindi sono queste le caratteristiche che apprezzano i nuovi consumatori cinesi e vogliono avere il prodotto originale e non copiato. Il rapporto elabora le stime delle importazioni di beni del bello e ben fatto nei 30 principali mercati emergenti per il periodo 2013-2018. Le vendite italiane all'estero di questi prodotti sono state di 61 miliardi di euro nel 2012, il 15,5% del totale delle esportazioni manufatturiere italiane. Noi abbiamo cercato di scegliere veramente la cultura come driver principale per cui abbiamo pensato di innovare i processi, di fare una fabbrica che è tutta come una grande abitazione. Pensiamo in maniera olistica su tanti fronti, non ultimo ovviamente il prodotto che è il più rilevante per cui cerchiamo di innovare e di avere una capacità poi di generare valore che ti porta ad essere interessante per quei mercati. Non anteponete mai la vostra quiete alle necessità della Chiesa. Lo scriveva 1600 anni fa ai suoi il Vescovo di Pona, Sant'Agostino e lo ripete rivolto a centinaia di sacerdoti presenti nella Basilica del Seminario di Venegono, il Cardinale, che arriva per la tradizionale, sempre molto attesa, Festa dei Fiori, nella quale si ricorda il Cardinale Colombo attraverso i suoi interventi al Concilio e si festeggiano coloro che sono preti da 70, 65, 60, 50, 25 anni. Siate lieti, riconoscete Cristo vivo e presente, dice subito l'Arcivescovo. La nostra vita di sacerdoti è questo essere presi a servizio della maternità della Chiesa, una Chiesa che occorre servire con sollecitudine e amore. In gioco c'è infatti un compito mai come oggi urgente. Essere credenti, autentici e propositivi, testimoni convincenti e con le debite distinzioni cittadini costruttivi. Quindi aiutiamo la Chiesa a far nascere i cristiani, gli uomini nuovi che offrono la loro vita per il bene dei fratelli. Riflessioni sulle quali il Cardinale torna anche al termine della celebrazione. Conferma l'Arcivescovo che Venegono sarà l'unica sede di seminario dall'inizio del nuovo anno pastorale nel settembre prossimo. Il trasloco del seminario di Seveso inizierà già a luglio e in quel richiamo, carissimo per lui, riguardante l'avvio della comunità seminaristica liceale. Che non significa un ritorno alle forme del seminario minore come lo abbiamo conosciuto. Ma è piuttosto una scelta innovativa nel metodo e nelle forme. E pur tuttavia, secondo me, rispondente al desiderio di molti giovani. Infine la festa, con i 20 candidati al sacerdozio 2013 che si presentano al Cardinale con un po' di emozione e tanta gioia.